Musica Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione dal nostro territorio. Si è avvalso della facoltà di non rispondere il colombiano ritenuto responsabile della violenza sessuale avvenuta nel sottopasso della stazione ferroviaria a Treviso. L'uomo che si trova nel carcere di Santa Bona è stato sottoposto ad interrogatorio di garanzia. Tra l'altro nei suoi confronti è stata emessa una nuova ordinanza di custodia cautelare per un altro reato sessuale, quindi una misura aggiuntiva. Nel 2010 a Montebelluna, sempre nel Trevigiano, avrebbe violentato una sua connazionale. Il procuratore caporeggente di Treviso, Francesco Cicero, si è oggi rivolto alle autorità pubbliche affinché sia possibile sostenere finanziariamente il viaggio di ritorno della donna dal suo paese di origine, dove nel frattempo è rientrata. Questo per riuscire a proseguire con i passaggi fondamentali a sostenere questo ulteriore capo d'accusa. Si è trasformata in paura la passeggiata di due padovane prese abbastonate ieri pomeriggio da un rapinatore. Ecco cosa è accaduto. Una domenica pomeriggio, fredda ma solleggiata, tanto da invitare due 40 anni padovane ad uscire di casa per una passeggiata, ma il pomeriggio per le due amiche da piacevole si è trasformato presto in un episodio da dimenticare. Le due donne hanno raccontato di essere state aggredite da un rapinatore che non ha esitato a colpirle alle gambe con un grosso bastone per farsi consegnare il denaro. Un episodio della scioccante violenza che poteva sicuramente concludersi in maniera più tragica. È sotto al cavalcavia Sarpi del Mazze che le due amiche raccontano di aver incrociato Nicolai e Gaspar, romeno 34enne, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, secondo il racconto, le avrebbe affrontate armato di bastone, colpendole entrambe ripetutamente alle gambe. Obiettivo il denaro, qualche decina di euro, che le due amiche hanno nelle tasche, poi la fuga. La descrizione del loro aggressore è tanto dettagliata da permettere ai carabinieri di rintracciare il romeno. Per fuggire alla cattura si era nascosto a poche decine di metri dal luogo dell'aggressione. All'interno del cortile di una ditta edile. Un nascondiglio che però non gli ha impedito di essere arrestato con l'accusa di rapina. Continuiamo con altri fatti. I carabinieri della stazione di Mestrino, nel Padovano, hanno arrestato un veneziano di 33 anni, originario di Chioggia, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Claudio Ceschin, questo è il nome del trentenne, è stato sorpreso dagli uomini dell'arma, mentre cedeva due dosi di mentanfetamina, circa un grammo di MD, a due ragazzi all'uscita di un locale della zona. Sequestrati a giovane anche 320 euro considerati dagli investigatori, soldi, provento di spaccio e un contenitore con all'interno capsule contenenti della polvere bianca che gli uomini dell'arma ritengono che venisse usata come sostanza da taglio. Segnalati invece alla prefettura padovana, in qualità di assuntori, due giovani clienti del veneziano. Violento episodio questa mattina all'interno di una scuola di Campo San Piero, una scuola superiore. La lite tra due ragazzi è finita con una coltellata. Sentiamo cosa è successo. Una mattina come le altre, in uno dei tanti istituti della provincia padovana, poi la lite fra due studenti degenera fino a che uno dei due, 21enne, estrae un oggetto appuntito e colpisce il compagno di classe. Una ferita piccola ma profonda che costringe la vittima da poco 18enne a ricorrere alle cure spedaliere. Al pronto soccorso, dove arriva trasportato da un'auto avulanza, allo studente che frequenta il quarto anno dell'istituto tecnico viene applicato un punto di sutura. La completa guarigione avverrà per i medici entro una decina di giorni. Erano da poco passate le otto, quando i due iniziano a litigare nel giardino di scuola, una discussione che forse avevano già avuto anche in passato e che i carabinieri chiamati per ricostruire quanto accaduto ritengono nata da futili motivi. Dalle parole però, presto il più grande dei due passa ai fatti, estrae forse un taglierino non ritrovato sulla scena dell'aggressione e colpisce l'altro studente, un unico offendente al fianco sinistro. La vittima prova a tamponare la ferita, ma il sangue è troppo e così qualcuno avverte prima gli insegnanti e poi l'ambulanza. Il 21enne, iscritto al quinto anno dell'istituto, ora dovrà rispondere di porto abusivo di oggetti atti ad offendere e lesioni personali. 63 persone nascoste in un tir proveniente dalla Grecia a bordo di un traghetto della Hellenic Trader. Si tratta di clandestini che sono stati trovati all'arrivo del cargo nel porto di Venezia. La segnalazione era scattata ieri sera. Ad informare le capitanerie di porto è stato il comandante. Quando il cargo è entrato in acque italiane, è intervenuto una motovedetta della Guardia Costiera che ha scortato l'imbarcazione fino all'attracco nel porto di Venezia. Le forze dell'ordine hanno poi proceduto ad una verifica interna durante la quale hanno trovato i clandestini. Nell'immediato sono partite subito le procedure di rito. Torniamo a Padova, a Limena. L'altra notte due auto si sono scontrate. Le due macchine si stavano sfidando in una gara di velocità. Ma sentiamo cosa è accaduto. Gara tra due auto durante l'altra notte. Una bravata che è costata la sospensione della patente a due giovani padovani ma che possono anche dirsi graziati di non aver avuto ripercussioni fisiche. L'altra notte in zona industriale a Limena c'era un gruppo di amici. Il gruppetto per un diversivo alla serata ha pensato di giocare con il destino e così da una parte a bordo di una Opel Agila e altri a bordo di una Opel Corsa hanno dato via ad una gara. Rombi di motore e frenati hanno allarmato i residenti. Altri giovani facevano il tifo a bordo strada. Una scena che potrebbe far venire in mente un film di James Dean. Ma in realtà quello che suscita una storia simile è solo un sentimento di incoscienza e di terrore. Già perché con la vita non si scherza e ai ragazzi, tra l'altro neopatentati, è andata bene. Le due auto improvvisamente si sono scontrate e una si è capovolta. A quel punto i residenti hanno iniziato a telefonare all'armati e ai carabinieri. Fortunatamente nessuno si è fatto male. Ancora a Padova, agenti della Polfer hanno arrestato un nigeriano clandestino sorpreso a spacciare in zona stazione. Un cittadino nigeriano è stato arrestato dalla polizia ferroviaria di Padova. Gli agenti erano in servizio in Borghese quando hanno visto dei movimenti sospetti sul cavalcavia Borgomagno. Seguendo i movimenti dello straniero, in poco tempo hanno capito che stava vendendo dello stupefacente e quindi sono entrati in azione senza perdere tempo. Con lui c'erano tre acquirenti padovani che avevano appena comprato una dose di cocaina. L'uomo arrestato è clandestino in Italia. Uno dei padovani che aveva comprato lo stupefacente ha detto che aveva acquistato almeno altre dieci volte. Nuovo tentativo di furto al caffè Pedrocchi. A distanza di un mese dal primo episodio, un ladro questa notte si è introdotto nel Museo del Risorgimento che si trova al piano nobile dello storico caffè Padovano, ma è stato colto sul fatto. Sentiamo. Rubare il Pedrocchi sembra non essere cosa facile, a meno a giudicare dagli ultimi due colpi messi a segno ad un mese esatto l'uno dall'altro ed entrambi sfortunati. Il primo la notte di Capodanno fallito a causa dell'allarme antincendio scattato per il fumo della sega circolare con la quale i ladri stavano tentando di aprire la cassaforte. Il secondo questa notte intorno a luna, sventato anche questa volta da un allarme, quello antifurto, che ha permesso ad una volante della polizia di cogliere Francesco Marrone e Vincentino 42enne con le mani nel sacco, o meglio con le tasche piene del fondo cassa del Museo del Risorgimento. Al piano nobile dello storico caffè Padovano è sede infatti l'esposizione dall'alto valore storico, che raccoglie testimonianze che vanno dalla caduta della Serenissima fino alla nascita della Costituzione italiana nel 1948, e che forse per la prima volta dei fatti che l'hanno viste protagonista ieri sera sono tornate ad essere in pericolo. Oppure no, perché il quarantenne Vicentino è stato bloccato prima che potesse infrangere le tecche del museo, sempre che ne avesse l'intenzione. Al momento dell'arresto con l'accusa di tentato furto, Marrone aveva con sé anche un borsone, con all'interno occhiali da sole, vari oggetti di bigiotteria, alcuni orologi ed effetti personali, come tessere d'abbonamento ai trasporti pubblici. Un particolare che è costato all'uomo anche l'accusa di ricettazione. Domani alle 10 a Noale si svolgeranno i funerali di Don Giacomo Cusinato, per 23 anni arciprete di Noale. La Santa Messa delle Ezeque sarà celebrata nella chiesa arcipretale di Noale domani alle 10. La salma di Don Giacomo poi sarà tumulata nella tomba dei sacerdoti, sempre a Noale. Da oggi gli immigrati presenti in Italia dovranno pagare la supertassa sul rinnovo e rilascio del permesso di soggiorno. Il conto varierà da 80 a 200 euro, nessuno sconto come era stato preventivato dunque. Varie associazioni avevano proposto, considerato che la crisi colpisce tutti, di non gravare sui lavoratori stranieri presenti in Italia. La situazione era stata esaminata anche dal governo, ma al momento non è stata introdotta nessuna cancellazione o modifica. La tassa va da 80 euro per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, con durata da tre mesi a un anno, mentre i 200 euro vengono richiesti per un tempo definito di lungo periodo. Per Roberto Maroni l'ambizione è di fare della Lega il primo partito di tutta la Padania. Lo ha detto ieri a Verona, dove ha partecipato all'incontro che si è svolto in fiera per sostenere la ricandidatura di Flavio Tosi a sindaco. Secondo Maroni, se Tosi e la Lega vinceranno a Verona, poi si aprirà la strada per tutto il Veneto e il Nord del paese. Tra l'altro, dopo una riunione della segreteria politica della Lega Nord Liga Veneta Provinciale di Padova, con tutti gli esponenti politici legati al partito, è stato comunicato che alle prossime elezioni amministrative, dunque anche nelle sezioni della provincia di Padova, la lista correrà senza alleanze che in questo momento sostengono il governo Monti. Cambiamo argomento, Italia 100% digitalizzata. Lo sostiene la Commissione europea, ma il 40% delle famiglie ancora non possiede internet. I numeri della Commissione europea ci illustrano l'Italia come un paese digitalizzato al 100% per quanto riguarda i servizi pubblici e sono sempre di più coloro che si informano via web. Eppure c'è un paradosso perché bene il 40% delle famiglie italiane non ha internet. Quasi il 40% delle persone tra i 16 e i 74 anni non si è mai collegato alla rete. I dati descrivono il nostro paese molto più avanti della Germania, per risultati dell'agenda digitale dei governi e percentuale di servizi informatizzati. Tutta questa rivoluzione del web però non attraversa davvero tutta la penisola e non entra nelle case di tutti gli italiani. Negli ultimi tre mesi solo il 10% dei cittadini ha inviato o ricevuto un documento della pubblica amministrazione online, rispetto invece al 19% dell'Unione Europea, il 21% della Francia e il 32% della Finlandia. Eurostat nel dicembre 2011 ha fotografato le case d'Europa con l'accesso a internet. Sono solo il 62% in Italia, mentre per fare un esempio in Svezia sono il 91%. Il nuovo presidente della CAV Concessioni Autostradali Venete, Tiziano Bembo, ha fatto visita oggi al presidente della provincia di Treviso, Leonardo Muraro. Tiziano Bembo in questi giorni è impegnato in alcune visite istituzionali nel territorio. I due presidenti hanno così avuto l'occasione di dialogare in merito al passante di maestri e all'importanza strategica della grande viabilità in provincia di Treviso, territorio attraversato dalle grandi infrastrutture autostradali. Ricordiamo che la CAV è una società per azioni costituita da ANAS e Regione Veneto. Cambiamo completamente argomento, ci occupiamo di fortuna. Il superenalotto, pensate, per la giocata di domani sera, ha un jackpot da 58 milioni di euro, il più alto di Europa. Sentiamo. Ancora una volta il jackpot del superenalotto torna ad essere il più alto monte premi d'Europa. Con oltre 58 milioni di euro già disponibili per il concorso di martedì, il jackpot diventa il più alto monte premi d'Italia ed Europa. Nel corso dell'ultimo anno ci sono state 18 milioni di vincite per un totale di oltre 736 milioni di euro di premi. La città più fortunata, cioè dove si è vinto di più, è Roma, seguita da Milano, Napoli, Torino e Palermo. L'ultimo anno, ha detto Francesco Raganelli, responsabile marketing del business United Lottery di Sisal, si è rivelato particolarmente fortunato. Sono stati realizzate tre vincite con punti 6, la prima in provincia di Alessandria, la seconda a Cosenza e l'ultima, sicuramente quella più emozionante, a Gubbio in provincia di Perugia, dove sono stati vinti 65 milioni di euro. Super Enalotto, dichiara Raganelli, è un gioco leggero che fa sognare, con un solo euro si può diventare milionari e realizzare un sogno. Ma è anche un gioco che accompagna gli italiani tutte le settimane e premiando sempre con le categorie di vincite minori. Freddo, intenso e pungente in questi giorni, come da tradizione e leggenda, questi sono i famosi giorni della merla. Allora scopriamo cosa raccontano i nonni. Secondo una vecchia leggenda, una volta i merli erano tutti bianchi. Un freddo e una gelata improvvisa misero in seria difficoltà questi uccelli e così una mamma con i suoi piccoli decise di trovare il riparo all'interno di un camino. La merla e i suoi figli, quando uscirono, erano tutti neri. Gli ultimi giorni di gennaio, proprio per questa vecchia storia, vengono indicati come i giorni della merla, i giorni più freddi dell'anno. I nonni raccontano che da queste giornate è possibile capire come sarà la primavera. Se i giorni della merla sono freddi, la prossima stagione sarà bella e calda. Al contrario, temperature non glaciali prometterebbero una primavera in ritardo. Tradizioni a parte, comunque in questi giorni guardando i siti internet dedicati al tempo, e i blog gestiti dagli esperti del meteo, si capta una certa preoccupazione per l'arrivo del Buriam. Un vento gelido che arriva dalla Russia. Sentiamo allora che cosa è previsto nei prossimi giorni. Come ogni anno, i famosi giorni della merla si stanno facendo sentire. Se in questi giorni le temperature sono basse, per gli esperti scenderanno ancora di più. Sul nostro paese è previsto infatti l'arrivo del Buriam. Si tratta di un vento gelido di provenienza russa, dagli Urali. I termometri nel periodo compreso tra metà della settimana e il weekend potrebbero scendere anche in pianura padana, ben al di sotto, delle temperature invernali. Qualcuno tra gli esperti parla addirittura di 15 gradi sotto lo zero. Non dovrebbero mancare nemmeno le nevicate previste in abbondanza. Quello che spaventa di più sono il ghiaccio e il freddo. Dunque preparate sciarpe, guanti e berretto anche in città, dove solitamente un buon giubbotto caldo basta riparare il corpo. Secondo alcuni studiosi, si possono paragonare le temperature in arrivo con lo storico freddo registrato nel 1956. Lo scenario che si presenta, secondo le previsioni attuali, è piuttosto preoccupante, ma sappiamo anche che le previsioni possono variare e quindi i più prudenti tendono a non sbilanciarsi. In vista del peggioramento delle condizioni climatiche che potrebbe portare ad un ulteriore abbassamento delle temperature, il vice sindaco di Venezia ha scritto oggi al prefetto invitandola a farsi promotore della richiesta di proroga per l'apertura notturna straordinaria della stazione ferroviaria di Mestre. Se le previsioni di gelo verranno confermate, ha spiegato il vice sindaco veneziano, i 25 posti letto messi a disposizione dalle strutture che collaborano con il Comune, rischiano di non essere sufficienti e allora per questo sarebbe indispensabile l'apertura notturna straordinaria della stazione di Mestre, in modo da consentire un riparo notturno a chi è senza un tetto. Ed ora vediamo nel dettaglio che cosa prevede l'ARPAV per la giornata di domani sul Veneto. Da poco a parzialmente nuvoloso al mattino, nuvoloso o molto nuvoloso in seguito per nubi medio-alte, un po' più consistenti sui settori occidentali e meridionali della regione. Probabilità di precipitazioni in aumento dalle ore centrali fino a media sulla pianura meridionale e sui settori montani e pedemontani più occidentali per qualche modesta nevicata. Altrove in prevalenza assente la possibilità di precipitazioni, salvo una probabilità bassa di qualche sporadico fiocco di neve. È tutto per questa edizione, naturalmente continueremo a seguire l'evolversi di ciò che dicono gli esperti. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti.